Dalla rifinitura svolta stamane al Vita Antonio di Ripalimosani è contraddistinta pure da un bel sole autunnale. Abbiamo potuto evincere che il tecnico Rossoblu Cappellacci ha un paio di dubbi di formazione. Il primo riguarda la linea mediana, laddove è in atto un ballottaggio tra Boldrini e Bontà, quest'ultimo mai chiamato in causa dal primo minuto. A sinistra invece il duello per una maglietta dal primo minuto esiste tra Todino e Dimas, ma il brasiliano sembra essere avvantaggiato rispetto al secondo nell'undici di partenza. Gattari e Ferrani a parte non si registrano altre defezioni nel gruppo Rossoblu fortemente desideroso di riscatto. Dopo la sonora sconfitta interna contro il Chieti proviamo allora ad abbozzare una presumibile formazione anti San Nicolò. Capuano sarà a guardia dei pali, Fusario e Di Pasquale al centro. A sinistra ipotizziamo una conferma per Rao. A destra potrebbe essere il turno di Lenoci dal primo minuto. Cappellacci sembrerebbe essere orientato a schierare il campo basso secondo i dettami di un 4-3-2-1 nel quale gli esterni d'attacco dovranno essere bravi ad allargare la difesa del San Nicolò. Nel comparto mediano tira area di conferma per Censori e Valentini mentre potrebbe essere data la prima chance della stagione a bontà. Giocatore abile a macinare chilometri e a recuperare palloni. Sulle corsie laterali Fiore a destra e Dimas a sinistra collaboreranno con l'unica punta Bucchi. Almeno questo si può desumere dalla rifinitura svolta prima della partenza alla volta di Teramo. Per il campo basso urge la vittoria come unico risultato possibile dal campo del Bonolis incontrata piano d'accio. Per la squadra di Epifani non esiste la stessa stringente necessità che hanno i rosso-blu. Dunque anche un pareggio potrebbe essere accolto con il sorriso sulle labbra. La cabala va chiamata raccolta. Il San Nicolò infatti ricorda per lo scorso anno al campo basso sei punti presi in campionato tra gironi di andata e quello di ritorno ma pure una sconfitta abbastanza corposa nelle dimensioni. Nel primo turno playoff giocatosi nello scorso mese di maggio a Selvapiana vinsero i Teramani per 3-0 togliendo dai giochi playoff i rosso-blu allora allenati da Vullo. Rispetto alla scorsa stagione il San Nicolò ha perso l'attaccante Armando Iaboni accassatosi alla Vastese. Nel tabellino degli Abruzzesi permane 1-0 nel posto delle vittorie interne. L'unico successo dei Teramani è arrivato domenica scorsa al Del Duca di Ascoli contro il Monticelli. Il campo basso citerà quindi a conservare lo zero nella casella delle vittorie interne del San Nicolò. A dirigere la partita di domani tra gli Abruzzesi ed il campo basso a partire dalle ore 15 è stato designato il signor Bertolino della sezione di Terni.